Il scatto per la Fratres Monterchi che dopo la sconfitta a Casalinga rimediata nello scorso turno vince 2-1 nel campo dell'Olmo contro la Gazzi Avis. Siamo con Matteo Mariangeli, l'autore di uno dei due gol che hanno portato la squadra di Mister Rossi alla vittoria. Matteo, il tuo è stato il gol del pareggio che ha ridato spinta e fiducia alla squadra. Sì, diciamo il gol giusto al momento giusto, era quello che ci serviva dopo un primo tempo non buttato però mezzo regalato agli avversari. Il gol ci ha dato la spinta giusta, ci ha fatto riprendere la partita in mano e abbiamo portato a casa questi due punti importantissimi che ci serviranno nelle partite che verranno. Un campionato diverso Matteo, un campionato sicuramente più difficile in confronto a quello di anno scorso. Ce l'aspettavamo, ce l'avevamo prefissato, lo sapevamo e così è stata. Le prime tre partite l'abbiamo subito notato, magari un po' siamo andati in difficoltà perché abituati al campionato scorso diciamo che ci può stare. Sono sicuro che anche quest'anno sapremo ripeterci e l'importante secondo me è riuscire a capire quali sono le tattiche e il modo di giocare degli avversari per poi adattarci al campionato e ripeterci. Siamo con Filippo Principi, il portiere della Fratres Monterchi. Filippo, una buona prestazione tra i pali che ha coinciso con il tuo esordio e con una buona vittoria della squadra. Sì, era la prima partita dopo tanto tempo e non pensavo anch'io, speravo di fare una buona partita però era più che altro una speranza che è più che una certezza. Il primo tempo qualche insicurezza di troppo, poi nel secondo insieme alla squadra abbiamo fatto un'ottima partita, l'abbiamo rimontata, l'abbiamo ripreso quello che sembrava perso. Abbiamo giocato bene e siamo riusciti a portare a casa questi due punti che sono veramente importanti. Un campo difficile, una squadra avversaria ostica, sicuramente una vittoria che dà morale. Sì, dà morale perché per come è venuta soprattutto siamo stati messi sotto nel primo tempo, poi nel secondo siamo tornati in campo con grinta, con voglia di vincere e l'abbiamo portata a casa per fortuna. Grazie. Grazie.